Sfiducia nei confronti del governo, mancanza di prospettive, necessità di recupero del valore, della dignità del lavoratore e del lavoro come diritto inviolabile. Sono donne e uomini, giovani e meno giovani, stanchi e sfiduciati, che vogliono risposte concrete. Ed è per questo che la Cigelia Nazionale ha deciso di intraprendere una campagna in tutta Italia dal titolo Il lavoro al centro, per essere nelle aziende, nelle fabbriche e dialogare con chi guarda il futuro con paura e non più con prospettiva. Qui siamo a Modugno, in provincia di Bari, durante l'assemblea alla Merck Serono, azienda farmaceutica che in controtendenza non è stata investita dalla crisi, che ha travolto invece altri siti produttivi della zona industriale di Bari proprio a poche centinaia di metri da lì. Noi abbiamo bisogno di un forte cambiamento e di un forte segnale da parte della politica di attenzione nei confronti del lavoro, dei lavoratori, delle lavoratrici, di quelli che oggi hanno un'opportunità e soprattutto dei tanti giovani precari che rischiano di perdere la speranza. C'è il rischio pesante che le insicurezze, le paure delle persone determinano un decadimento della coesione sociale nel nostro paese, che sarebbe la cosa più sbagliata in un momento in cui l'Italia può finalmente guardare al futuro, ipotizzando un piccolo segnale di crescita. La crescita per noi deve avere una coordinata fondamentale, che è quella dell'aumento dell'occupazione, cosa che possiamo fare solo se c'è un segnale di attenzione nella legge di stabilità alla tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori, a un abbattimento delle tasse sulle imprese che siano finalizzate a nuove assunzioni. Un'iniziativa riuscita, quella che la CGL nazionale sta svolgendo su tutto il territorio, quello di entrare nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, capire quali sono le esigenze dei lavoratori e cercare di dare risposte. Qual è la risposta quando un lavoratore chiede come materialmente rimettere al centro il lavoro? Cosa crede il sindacato di fare concretamente? Noi abbiamo uno strumento fondamentale che è quello della contrattazione. La contrattazione deve essere utilizzata in questo momento per tutelare il lavoro che c'è, ma soprattutto per provare a includere quei tanti giovani precari che oggi hanno condizioni completamente differenti e che non hanno nessun regime di tutela. E questo attiene alle responsabilità del sindacato nelle fabbriche e nelle aziende per ritornare a essere credibile. Dobbiamo anche esercitare più democrazia nei luoghi di lavoro. E poi come sindacato confederale noi abbiamo bisogno di convincere la politica e il governo a fare scelte che ricostruiscano fiducia. E oggi fiducia significa prima di tutto ridare dignità alle persone. Oggi i feedback dei lavoratori sono stati buoni. Avere la segretaria nazionale della CGL a collochiare direttamente con i lavoratori è un momento importante, una bella pagina di sindacato. È importante per i lavoratori perché sentono il sindacato a tutti i livelli vicini ai loro problemi. È importante per il sindacato perché anche la CGL nazionale, i vertici nazionali che attivano questo confronto sul territorio penso che possano anche loro in qualche modo impadronirsi meglio delle tematiche, dei problemi, delle sensazioni che si possono percepire parlando direttamente con i lavoratori nelle fabbriche. Io penso che questa è un'attività che deve continuare in questo modo perché i lavoratori sentono sicuramente più vicino al sindacato. Di certo alleggia un clima di sconforto, di sfiducia soprattutto nei confronti del Governo. Beh sì, oggi, anche oggi i lavoratori, ma noi li sentiamo spesso, ovviamente non vedono prospettive in questo Governo, non vedono una prospettiva serena per se stessi, ma abbiamo visto, abbiamo sentito per i loro figli, per i giovani, per il futuro. Ed è bene che questi temi vengano consegnati a chi, come la CGL, che nei massimi vertici, gestisce, opera e interviene per migliorare le condizioni dei lavoratori. Questa iniziativa ha dato l'opportunità ad una serie di lavoratori di potersi confrontare con la segretaria nazionale della CGL, Sorrentino. È stata un'ottima idea, quella della Confederazione, di fare un giro nelle aziende direttamente, personalmente, come segreteria, per potersi confrontare con i lavoratori. I lavoratori oggi hanno molto apprezzato questo impegno a metterci la faccia e ad ascoltare, a recepire tutte quelle che possono essere le istanze che vengono dalla base intesa in senso proprio. Infatti, in questa iniziativa di quest'oggi, appunto, c'è stato un ricco, un grande dibattito e molti spunti di riflessione che la segretaria Sorrentino ha recepito e ai quali anche spunti di riflessione ha dato la sua idea, e ha fatto le sue considerazioni. Riteniamo che iniziative del genere siano utili e vadano riproposte, perché il risultato di oggi è quello veramente di una vicinanza del sindacato ai lavoratori. Ho un ruolo di RS1 all'interno della mia azienda, occupo anche un ruolo in segreteria qui a Bari per quanto riguarda la categoria dei chimici. E ancora più importante, sarebbe bello spiegare un pochettino l'esperienza europea che mi è stata data anche come incarico, occupo un ruolo di membro esecutivo nel Comitato Aziendale Europeo. Sicuramente in Germania, dove spesso vado per questo ruolo qui, noto una differenza sostanziale anche nei rapporti con l'azienda, sappiamo benissimo che vedo come il sistema di cogestione che è in Germania, porta sicuramente a uno stato di diritto molto più congruo e molto più presente nelle menti dei lavoratori. Questa è una strada che la CGL, anche nel nostro rinnovo contrattuale, stiamo perseguendo. È chiaro che la politica e quindi le leggi ci devono dare una mano in questo.